Belli ragazzi sono Ariane e eccoci qua in questo nuovo video molto veloce dove vi faccio vedere la nuova modalità pausa di Black Ops 4 Zombies che è stata aggiunta da qualche giorno appunto Raga per mettere questa pausa sarà molto semplice potrà farlo solamente l'host inizialmente si pensava che appunto era necessario che tutti e quattro i giocatori mettessero pausa appunto per entrare in questa modalità Quindi tutto ciò raga è stato smentito e per mettere adesso in modalità pausa ci sarà bisogno solamente dell'host che appunto prema quel maledetto start E niente raga per questo brevissimo video aggiornamento è tutto io come sempre vi ricordo di iscrivervi, di passare da Instagram se ancora non l'avete fatto, ci becchiamo a un prossimo video, bella A buon Ciao